Ciao a tutti ragazzi, prima di questo mio nuovissimo video e durante la quarantena non ho potuto fare molti video scusate se sto ritendo a faccia a Marci che prima mi ha detto una cosa vabbè e comunque come potete vedere è uscito il passo perchè non penso che lui l'abbia ancora fatto vedere io sono arrivato al livello 10 e sono arrivato al livello 24 in verità e dal livello 10 ho conservato le casse Marci invece l'ha conservata a livello 1 si era pure scioppato il pass non parliamo di questo e stare anche al livello 30 oggi andremo ad aprire tutte le case che ci siamo accumulati e vediamo cosa troviamo ok direi di iniziare si apriamo la prima tu devi arrivare fino al livello 15 non trovo niente no devi aprire anche quelle di sopra però no apro prima quelle di sotto perchè? perchè si ok arriva al livello 15 e poi mi aspetti vabbè ragazzi vi dico Marci è arrivato alla ricompensa dei 10 gem Marci è qua 200 200 ora sta aprendo questa sta aprendo la ricompensa numero 6 ma che devi tutto? si numero 7 8 niente vabbè questo è il box opening sto sfortunato no fermo fermo vai avanti guarda devo aprire anch'io 3 2 1 5 skip 5 skip ragazzi vabbè non ci credo vabbè ma neanche ho trovato niente 50 punti che li do non mi ricordo più a chi dovevo darli io io non mi ricordo a chi dovevo darli un secondo ragazzi scusate un secondo eh ok ragazzi so a chi li devo dare io inizio ad aprire queste sai perché? si perché così io apro questa mega cassa li devo dare a Tara niente Marci non ha trovato niente sta aprendo le ricompense del girl pass qua sopra ma è sfortunato lui non c'è niente sta alle 100 ah questa mega cassa niente questa mega cassa dove sei scusa? ah l'hai già aperte ok io devo aprire la cassa enorme ok io posso cassa enorme porto non è vero 3 di compense niente che bello ragazzi proprio il box opening migliore della storia dove sei te? io sto al 13 ok vai va bene nella cassetta cosa vogliamo trovare? io ci ho trovato se c'è va bene il gadgettino tattico il gadgettino tattico Marci trova il gadget di Time non so come ho fatto ma vabbè 200 oggettoni 20 le 20 gemme sono bellissime cassa enorme cassa enorme no casetta piccola cassa brawl andiamo piano scusa siamo ancora a 3 minuti vediamo se posso maxare 4 minuti dopo proviamo la roba che troviamo oh Marci prova la roba che ha trovato io non trovo niente allora io lo posso maxare io tra poco ragazzi se funziona se ho abbastanza monete dopo farò questo porterò bull a livello 9 ho bagliato ok apro apro la cassetta si ti aspetto a livello 20 ora ragazzi aspettiamo un attimo Marci che è a livello 20 io ho finito praticamente non ho più niente a livello 20 posso maxare vabbè farlo dalla fine non ho le monete no perché se no così posso trovare star power no perché poi non puoi trovare brawler così è più possibilità di trovare star power bene Marci sta aprendo la cassa enorme ora apro la mega cassa anch'io la apro 5 skip 5 skip dai ma che cosa abbiamo 5 skip ragazzi ma cassetta brawler hai aperto la cassa enorme sopra? la mega cassa sopra? no l'apro dopo ok cassa brawler gadget grande gadget bisteccona vabbè ora io non trovo più niente aspettami 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 sono la cassa enorme e si dice vabbè tutto normale ultima mia ricompensa niente io questa è la mia ultima niente niente non trovo niente io sono sfigato io apro la mega cassa di quello sopra non trovo niente ovviamente Marci non trova niente ovviamente perché Marci però sei più fortunato di me io ho 1170 no non ci credo ragazzi non abbiamo abbastanza monete per quante? no per pochissime io per pochissime monete non ci arrivo niente bene ragazzi ora noi avanziamo io mi devo fare il livello 25 bravo hai spiegato tanto già a me zio niente niente ragazzi non lo volevo fare veramente le gemme le volevo tenere tutte a chi posso dare 100 punti? le 30 gemme che mi ero appena fatto con il brawl a chi posso dare 100 punti? aspetta le 30 gemme che mi ero appena fatto con il brawl le uniche 30 gemme che ho provato a avere fino al fino al livello 35 se ne sono andate ma io posso maxare tutti cosa? quasi tutti vabbè ragazzi marci a chi gli do 100? ma che ne so ah li tengo per no è vero vabbè ragazzi ora andiamo a provare le cose che abbiamo trovato io ho trovato solamente questa ok io continuo ma dai ma chi posso maxare? nessuno no io posso maxare un sacco di gente non mi interessa però non so chi dare i punti è brutto per te far maxare la ro ah eeeh marci devo pandorare la squadra perché? ragazzi noi intanto proviamo il gadget di bull in supervivenza in singolo perché mi devo fare delle missioni io e poi ritorniamo da marci ma chi gli do? ok ragazzi ecco piccolo imprevisto ok io li do ora uccido lui e mi toglie abbastanza ah io non ho provato il gadget vediamo che fa ah ti cura vabbè vabbè non è neanche tanto forte mi cura solamente ok 200 moni non ha senso questo gadget ma vabbè adesso ha senso prima non aveva senso figli 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 aspetta 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 marcello sta per prendere gelindo no mi mancano due casse no tre casse mi devi aspettare per gelindo non vuole venire all'attacco mi ha capa paura ahia non si fa così eh eh non è troppo forte non si discute non si discute contro il pro non l'ho ucciso si ho ucciso mi sono ucciso in tutti se non muori così non so come ho ucciso la lita ho ucciso la pipe ecco la telecolonica più brutta del mondo adesso apre la mega cassa sei skip sei skip se trovo gelindo mi arrabbia mi arrabbia ora ragazzi se trovo gelindo ok gadget lacci esplosivi gadget di brock ora prende gelindo vorrei farvi vedere la scena no non puoi ma dove c'è faccio una foto no niente ragazzi sto provando a fare una cosa che non era possibile aspettate ok ragazzi gelindo yes brawler cromatico gelindo è un truffatore vabbè non c'è bisogno lo leggiamo vai è bello togli ok ragazzi ecco gelindo